Il castello di San Zeno è probabilmente il nucleo originale della montagnana medievale, anticamente sede del castello feudale, di cui si è allargata in seguito la cinta muraria e la città al suo interno. L'elemento più antico conservatosi è il mastio, risalente al periodo della dominazione di Ezzelino da Romano, edificato nel 1242. Dall'alto dei suoi 38 metri domina la città e rappresenta una delle caratteristiche salienti dell'intera cinta fortificata. Frutto di diverse sovrapposizioni, il castello di San Zeno è costituito dei quattro corpi che cingono il bel cortile interno. Questo porta ancora sulle pareti orientale e occidentale un ballatoio ligno ricoperto. Di epoca veneziana è invece l'ala meridionale. Anticamente un fossato interno scavato nell'attuale piazzale completava l'isolamento del fortilizio e un sistema di ponti levatoi e saracinesche proteggeva l'ingresso e l'uscita dalla fortezza e dalla città. Di epoca moderna è invece l'arena, utilizzata per spettacoli teatrali e musicali. Attualmente il castello ospita un interessante museo archeologico, il museo dedicato ai grandi tenori cittadini Martinelli e Pertile, l'archivio, istituzioni culturali e la biblioteca civica.